Ti sei mai chiesto dove si trovi realmente il giardino dell'Eden? Gli studiosi hanno svelato indizi affascinanti su questa antica dimora. In diverse culture, da quella occidentale a quella orientale, l'Eden è visto come un luogo idilliaco, il paradiso originario dell'umanità. Ma cosa sappiamo veramente di questo luogo straordinario? In questo video esploreremo le origini del giardino dell'Eden, i suoi simbolismi intrinsechi nelle varie tradizioni religiose e le diverse teorie sulla sua possibile ubicazione. Scopriremo anche la visione sorprendente di un archeologo che ha sfidato le narrazioni convenzionali. Ma prima di prepararti per questa avventura, Se sei nuovo, ti invito a iscriverti al canale per non perdere i prossimi video. E se troverai il contenuto interessante, potrai condividerlo con i tuoi amici e familiari. L'Eden rappresenta il paradiso originario dell'umanità, un luogo di piacere e felicità senza pari. Il termine Eden deriva dall'ebraico antico Eden, che significa piacere o delizia. Nella cultura occidentale, l'Eden è associato al giardino dell'Eden, descritto nella Bibbia come il luogo in cui Adamo ed Eva vissero in armonia con la natura prima di essere espulsi per aver disobbedito a Dio. La Bibbia fornisce alcune indicazioni sulla posizione dell'Eden. Nel libro della Genesi si menzionano quattro fiumi che lo circondano. Il Pison, il Gicon, il Tigri e l'Eufrate. Tuttavia, queste indicazioni non sono sufficientemente dettagliate per stabilire con certezza la sua ubicazione precisa. Di conseguenza, sono state avanzate varie ipotesi riguardo al luogo che potrebbe aver ospitato la presunta dimora paradisiaca della prima coppia umana. Alcune teorie si riferiscono alla Mesopotamia. In base alla menzione dei quattro fiumi che, secondo i testi biblici, avevano origine nell'Eden. Con il Tigri e l'Eufrate tra questi. Il Libano è stato considerato per le sue foreste di cedri, ideali per una vegetazione lussureggiante come quella che avrebbe potuto accogliere Adamo ed Eva. Così come Gerusalemme e persino la contea di Jackson nel Missouri, negli Stati Uniti. Tuttavia, secondo Jody Magnès, archeologa e studiosa delle religioni, l'Eden potrebbe essere situato proprio dove oggi si trova la chiesa del Santo Sepolcro nella città vecchia di Gerusalemme, il luogo più sacro del mondo. Nel cristianesimo, secondo la tradizione, il luogo conosciuto come Golgotha o Calvario è considerato lo stesso luogo in cui Gesù di Nazareth fu crocifisso e dove si trova anche la tomba vuota di Gesù Cristo, dove fu sepolto e risuscitato. Tuttavia, nonostante ciò, non vi sono molte prove per supportare l'idea che la città vecchia sia la sede dell'Eden. E l'idea che Gerusalemme sia il luogo dell'Eden contraddice il testo biblico della Genesi che associa quattro fiumi al giardino dell'Eden, rendendo improbabile che Gerusalemme, priva di fiumi significativi, sia stata la sua sede. Nonostante ciò, alcuni ritengono che vi sia una connessione speciale tra Adamo e Gerusalemme. Nel giudaismo antico e al tempo di Gesù, Gerusalemme era considerata la dimora della presenza di Dio nel Tempio, portando alcuni a concepirla come l'Eden biblico. Nonostante le varie interpretazioni e tradizioni, la posizione esatta dell'Eden rimane oggetto di dibattito e speculazione. Se la teoria di Magnes fosse corretta, il paradiso terrestre creato da Dio non avrebbe lasciato traccia, essendo stato utilizzato per costruire la chiesa del Santo Sepolcro e forse altri edifici nella città vecchia. La chiesa del Santo Sepolcro fu eretta nel IV secolo dall'imperatore romano Costantino il Grande, dopo che sua madre visitò Gerusalemme con l'obiettivo di identificare il luogo della crocifissione e della tomba vuota di Gesù Cristo. L'Eden rappresenta un concetto multiculturale presente in diverse tradizioni religiose e culturali, tra cui l'ebraismo, il sumerico, il cristiano, il babilonese, l'islamico e più recentemente il mormone. Il libro della Genesi narra del destino predisposto da Dio per l'uomo dopo averlo creato dalla polvere della terra. Viene descritto come «Dio piantò un giardino ad est e vi pose l'uomo da lui formato, affinché lo coltivasse e lo custodisse». La storia della Genesi continua descrivendo la magnifica vita vegetale creata da Dio nel giardino, con ogni albero delizioso alla vista e buono da mangiare. In particolare, l'albero della vita è l'albero della conoscenza del bene e del male. Adamo ed Eva possono mangiarne i frutti a sazietà. In questo modo essi sono immortali, immuni alla vecchiaia, alle malattie e alla morte. L'albero della vita è un simbolo diffuso nelle tradizioni mitologiche, religiose e filosofiche dell'umanità, trovando riferimenti in varie culture, come quella persiana, egiziana, armena, assira, induista, buddista, cinese, germanica, cristiana, ebraica e altre. L'altro albero menzionato nella Genesi, l'albero della conoscenza del bene e del male, porta un frutto proibito da Dio ad Adamo e Eva. Attraverso la persuasione del serpente, identificato come Satana, la prima coppia mangiò il frutto proibito, incorrendo nel peccato originale e causando la caduta dell'umanità secondo la dottrina cristiana. Anche se i testi sacri non chiariscono la natura precisa dell'albero, il peccato che ne derivò continua a influenzare l'umanità secondo la teologia cristiana. La tradizione pittorica cristiana ha comunemente rappresentato l'Eden con un melo e l'immagine di Adamo che mangia una mela, senza mai mostrare altri frutti. Nel libro di Ezechiele si parla dell'Eden come di un giardino divino, ricco di pietre preziose e bellezze, finché l'uomo non viene scacciato a causa della sua iniquità e peccato. Leggiamo il passo. In Eden, giardino di Dio, tu hai ricoperto d'ogni pietra preziosa. Rubini, topazzi, diamanti, crisoliti, onici e diasperi, zaffiri, turchesi e smeraldi. Ed d'oro era il lavoro dei tuoi castoni e delle tue legature, preparato nel giorno in cui fosti creato. Secondo il libro della Genesi, il fiume che usciva dall'Eden si divideva in quattro bracci. Un fiume usciva da Eden per irrigare il giardino. Poi di lì si divideva e formava quattro corsi. Il primo fiume si chiama Pison. Esso scorre attorno a tutta la regione di Avila, dove si trova l'oro e l'oro di quella regione è fino. vi si trova pure la resina odorosa e la pietra donice. Il secondo fiume si chiama Ghicon. Esso scorre attorno a tutta la regione d'Etiopia. Il terzo fiume si chiama Tigri. Esso scorre a oriente di Assur. Il quarto fiume è l'Eufrate. Questi fiumi rappresentano le quattro vie in cui il fiume originario proveniente dall'Eden si divideva. Tuttavia, mentre il Tigri e l'Eufrate sono fiumi reali che scorrono in Medio Oriente, i fiumi Pison e Ghicon non sono stati identificati con certezza nella geografia moderna. Pertanto, la posizione dell'Eden è comunemente accettata come situata a sud della Mesopotamia, in base a questa interpretazione delle scritture. Diverse posizioni sono state suggerite per la localizzazione dell'Eden, ma la principale ipotesi la colloca nel sud della Mesopotamia vicino alla testa del Golfo Persico, dove Tigri ed Eufrate si uniscono per formare il fiume Shat al-Arab. Altre ipotesi suggeriscono l'altopiano nord-est dell'Iran, vicino alla città di Tabriz, avanzata dall'egittologo britannico David Rohl, sebbene non abbia raccolto ampio consenso accademico. Posizioni più insolite hanno localizzato l'Eden negli Stati Uniti e in Inghilterra. I leader fondatori della Chiesa mormone lo hanno collocato nella contea di Jackson, nel Missouri. La società panacea, seguace degli insegnamenti della profetessa inglese Joanna Southcott, postula che l'Eden si trovasse vicino alla città di Bedford, in Inghilterra. queste varie teorie riflettono la diversità di interpretazioni e credenze riguardanti la posizione del mitico giardino dell'Eden, presenti anche in altre culture e tradizioni religiose. Ci sono simbolismi simili a quelli dell'Eden presenti in altre mitologie e religioni. Nella mitologia sumera si parla di una dimora paradisiaca abitata da immortali, un luogo privo di malattie e morte. Nella mitologia greca c'è il giardino delle esperidi, un giardino della dea Hera, con un meleto i cui frutti dorati conferivano l'immortalità. Anche nella mitologia cinese si parla di pesche dell'immortalità. Tuttavia, è importante chiarire che mentre queste mitologie condividono alcune caratteristiche concettuali con l'Eden biblico, non sono considerate l'equivalente diretto dell'Eden ebraico cristiano. Essi possono rappresentare visioni culturali e simboliche del paradiso o della vita eterna, ma non sono legati alla narrativa specifica dell'Eden descritta nella Bibbia e nelle tradizioni ebraiche e cristiane. Nella Kabbalah e nel Talmud ebraico gli studiosi concordano che ci siano due simbolismi per il giardino dell'Eden, uno terrestre e uno celeste. L'Eden terrestre è descritto come un luogo fertile e rigoglioso, mentre l'Eden celeste è considerato la dimora delle anime, chiamato anche il giardino di giustizia. Si crede che coloro che vi abitano possano ascendere al trono di Dio e godere della vita eterna. Secondo la teologia ebraica moderna, la destinazione finale dell'umanità sarà il ritorno al giardino dell'Eden. Nell'Islam, il giardino dell'Eden è considerato come parte del paradiso e non necessariamente la dimora originaria di Adamo ed Eva. Il Corano menziona un singolo albero nell'Eden, l'albero dell'immortalità, il cui frutto era proibito alla coppia originaria. La narrativa islamica si concentra sull'espulsione di Adamo ed Eva dopo essere stati tentati da Satana, sebbene non specificando la sua ubicazione. L'interpretazione predominante tra i primi musulmani riguardo alla posizione dell'Eden era che fosse un giardino separato appositamente creato per Adamo ed Eva sulla terra, superiore a qualsiasi altro luogo. Tuttavia, alcuni studiosi si interrogano se il giardino dell'Eden fosse in realtà nel paradiso e non sulla terra, poiché nessun uomo vivente avrebbe potuto vedere il paradiso e quindi Adamo non avrebbe potuto viverci. I seguaci della Chiesa di Gesù Cristo degli ultimi giorni credono che dopo essere stati espulsi dall'Eden, Adamo ed Eva siano stati condotti in un luogo chiamato Adam on the Ahman, un sito storico mormone situato a sud della città di Jameson nella contea di Davis, Missouri. Secondo il canone biblico della religione mormone è stabilito che Adamo tornerà in questo luogo al momento del giudizio finale, come previsto da alcune profezie. Alcuni primi leader del mormonismo predicavano che l'Eden fosse vicino alla contea di Jackson, nel Missouri. Tuttavia, non ci sono testi che riportino le opinioni o le idee del profeta fondatore della Chiesa mormone, Joseph Smith, riguardo a questo particolare argomento. Con così pochi indizi disponibili su un evento così remoto, è difficile determinare con certezza dove si trovasse il giardino dell'Eden se mai esistesse. In conclusione, l'Eden rappresenta un concetto universale, presente in diverse tradizioni culturali e religiose che affascina e interpella l'umanità da secoli. Questo mitico giardino paradisiaco, ricco di simbolismo e significato, continua a stimolare la curiosità e la ricerca umana riguardo alla sua vera natura e ubicazione. Nonostante le molteplici interpretazioni e le varie teorie proposte nel corso della storia, la posizione precisa dell'Eden rimane avvolta nel mistero e rimane un'importante fonte di riflessione e ispirazione per l'umanità, invitandoci a esplorare i misteri dell'esistenza, il rapporto tra l'uomo e la natura e il significato ultimo della vita e della spiritualità. Grazie per aver guardato il video fino alla fine. Se ti fa piacere, puoi scrivere nei commenti le tue riflessioni e lasciare un like. Inoltre, se sei nuovo, ti invito a iscriverti al canale e ad attivare la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi video.